Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 2 gennaio, sabato. Tanti auguri a voi che avete passato questo capodanno di schifo come tutti quanti noi, anche se il giornale unico del virus dedica una pagina, almeno una pagina, tutti quanti i giornali sui furbetti vengono considerati del cenone, del veglione. Insomma, noi il massimo che abbiamo fatto abbiamo visto obiettivamente l'unica cosa è David Guetta all'Uvra, questo possiamo aver visto. Nel frattempo ci avevamo, non so, il Circo Massimo, il Duomo, non so con cosa li avevamo impegnati. Noi nella morte civile questo facciamo, però insomma David Guetta è un bel inizio dell'anno per chi apprezza quella roba lì come il sottoscritto. C'è chi apprezza il Nabucco e tra poco ne parleremo con Alessandro Gnocchi. Bando alle ciance. Oggi i giornali, ovviamente più che di Guetta, si sono occupati del Presidente della Repubblica Napolitano. Scusatemi, Mattarella, perché ha fatto il suo discorso, il suo fervorino di fine anno. Io però un complimento lo devo fare al Presidente della Repubblica. È un po' più sintetico rispetto agli altri. 14 minuti tutto sommato sono praticamente neanche una zuppa e quindi è breve e per qualcuno indolore. Il Colle rilancia i partiti, richiama i partiti. Questo è il titolo totalmente inutile del Corriere della Sera, che è un po' come il brodino del Presidente della Repubblica. Quando uno fa un titolo così, il Colle richiama i partiti e il direttore si esercita, non è più il tempo per litigi. Voi capite che le file all'edicole diventano dei veri e propri assembramenti per sapere esattamente come si sostanzia il Colle richiama i partiti e non è più tempo per litigi. Titoli che sarebbero valsi probabilmente per gli ultimi 525 discorsi delle grandi istituzioni. Dal Presidente della Corte Costituzionale ai grandi padri nobili dicono sempre le stesse cose. No, è litigi per favore, richiamo i partiti. Poi è veramente ridicolo nella sua inutilità. Maciocce oggi sul giornale dice che Mattarella di fatto commissaria il governo. Questo è il punto di vista di Maciocce e del giornale, svelando come Renzi e Conte, che sono i due contendenti in cui nella settimana prossima capiremo se hanno effettivamente voglia di fare questa crisi, Beh, insomma, Maciocce ci dice che non c'è margine per loro e si tratta soltanto di bluff, sia di Renzi sia di Conte. Il tempo prende un lato particolare del discorso del Quirinale, cioè quando dice che è il suo ultimo discorso, nel senso che al Quirinale non ci sarà più Mattarella, dice il tempo. Secondo me il pezzo più interessante oggi sul Quirinale, vi devo dire la verità, è di Daniele Capezzone, perché dice le cose come stanno. Alla fine tutti noi abbiamo un certo timore reverenziale nei confronti del Colle, perché parla poco, perché noi apprezziamo l'istituzione, anche per un fatto di conservatorismo. Cioè il Colle è un po' il ruolo del re, oggi invece del Napoletano e degli Scalfaro e dei Mattarella. Un tempo era quello che noi avevamo più che di Partiti, quello di Enaudi. Ma lasciamo perdere. Comunque oggi Capezzone fuori dalle righe riesce a dire alcune cose. Innanzitutto che il Presidente della Repubblica ha detto soltanto ovvietà e ambiguità. Sulla grande crisi pandemica il Presidente della Repubblica non è che proprio ci ha fatto sorridere, non è che ha fatto nessuna mia colpa rispetto all'abbraccio cinese, alla convocazione dell'ambasciatore cinese quando il virus è cinese. Non ha fatto grandi ponti, grandi elogio all'Europa Unita, non ricordandosi che la Germania si è fottuta 30 milioni di dosi, pagandole, ma si è fottuta un trattato che le stesse avevano firmato, come spesso avviene in Cina. Non parla dei ritardi nella vaccinazione, nelle organizzazioni, nelle siringhe. Non si racconta il fatto che l'Italia purtroppo è il paese che ha avuto più morti al mondo. Cioè va bene tutto, dice Capezzone, però insomma un po' di ambiguità e un po' di ovvietà e un po' di eroterica e retorica di troppo in questa fase dal colle ce la saremo attesa. E sulla politica, dice Capezzone, il Quirinale si è tenuto tutte le porte aperte, anche lì è stato ambiguissimo, non ha detto un colpo al cerchio e l'altro alla botta. E questa è la politica italiana, cioè se continuiamo con le ambiguità, dico io, non è che potremo avere cose un po' diverse rispetto a quelle che la nostra classe politica oggi ci sta dando. Sul fronte della crisi c'è da segnalare l'intervista che Renzi oggi, invece che al Corriere, invece che in Repubblica, dà al messaggero. Il che va benissimo, dice tre cose Renzi. Sbagliato da parte di Conte aver chiuso la verifica, vecchi riti della prima Repubblica che piacerebbero molto Mattarella, però, insomma, è già una bottarella data al Presidente Conte. La delega per i servizi segreti, la data anche Trump, come per dire il peggiore dei cattivi, non si è tenuto i servizi segreti, invece se li vuole tenere Conte, che è ribadito nella sua conferenza stampa di Natale che invece i servizi segreti lui non li delega. E terza cosa, dice, cosa che dice Renzi a questa intervista al messaggero, vedremo in aula chi ha più voti. Insomma, direi che è the chicken game, come dice Cassese, cioè vediamo chi si scontra prima. Nel frattempo, Belpietro dice, è pazzesco, come in questo paese, sul Libero, 75 mila morti, pil sotto al 10%, e questi stanno ancora a discutere dei servizi segreti. Discussione fondamentale, certo, ma in un paese che guardasse al domani è evidente che siamo in una situazione molto peggiore. Fermi tutti, perché poi ci sono due giornali che vi fanno ridere, vi fanno capire qual è il senso della politica in Italia. FICO, FICO, quello che non andava con la scorta, andava con l'autobus al suo primo giorno di lavoro. Pensate poi voi già per questo uno dovrebbe essere condannato, come dice il mio amico, picca alla sedia elettrica. Scherzo, è una metafora, soltanto qualche cretino può prenderla sul serio questa cosa. Ma avete capito il concetto, il principio di andare con l'autobus alla camera e poi diventare, come oggi vedi sul giornale, la stampa, il giornale più establishment di tutti. FICO che dice la crisi, non ci possiamo permettere una crisi per il paese. Lui, lui, il grillino tipo, l'uomo più, meno establishment del mondo, oggi fa il professor... Magari gli mette un parrucone, quelli bianchi, avete presente, ed è lord inglese. La crisi danneggia, è un danno per il paese. Ma ti rendi conto, questi qua sono passati due anni e da voler fare rivoluzionari, almeno nelle vecchie generazioni si diventavano conservatori da vecchi. No, questi anche... Cioè, ci hanno messo il tempo di una poltrona per diventare conservatori. Le crisi non fanno bene al paese. Ma come cazzo l'avete fatta voi la crisi? Avete distrutto l'establishment di questo paese e ora che siete voi establishment... E no, le crisi non si fanno. L'altra cosa ridicola è l'intervista, ovviamente, dei monti al foglio che ha il difetto, come il Corriere della Sera, di pensare che sia un grande metra per sé della politica. È un rettore universitario di un'università importante come la Bocconi che una cosa doveva sapere, essendo stato a lei, ma di Tobin, cos'è la Tobin Tax, l'ha introdotta in Italia facendo un disastro pazzesco insieme a tutta un'altra gran nuola di tasse. E noi non so per quale misterioso motivo a questo esponente della casta universitaria che è diventato esponente della casta politica che si è fatto nominare senatore a vita per prendersi il suo stipendietto fino alla fine dei suoi giorni. Beh, insomma, io sapete che sono a favore della casta, ma quando la casta diventa ridicola e farsesca ma con l'aria dell'Oden, beh, allora io me la prendo. Perché quello che si può dare lo stipendio a vita però fa finta di fare rigoroso e fare la riforma delle pensioni e tutto quanto fingendo di essere rigoroso sugli altri, non su se stesso, beh, insomma, non è in Audi che si divideva al Quirinale in mezza mela insieme al giornalista perché non voleva sprecarla. Monti è un'altra roba. E comunque, Monti, non riesco a capire a che titolo... No, il titolo lo capiamo, ex presidente del Consiglio, grande professore, una specie di gigante norme arcuri che oggi si spiega la politica sul foglio. Nel frattempo Travaglio ci spiega invece un'altra cosa che PD, Leo e Movimento 5 Stelle nel suo fondo di oggi dovrebbero andare in Parlamento e chiedere la fiducia al governo per stanare i Renziani. Vabbè, lasciamo perdere. Il titolo vero oggi, chapeau a Repubblica, numero uno, perché non parla della crisi, non parla di Mattarella, non parla della politica. Molinari oggi decide su Repubblica che è diventato molto più leggibile di altri giornali. Ve lo devo dire, io spesso non condivido le cose di Repubblica, non hanno il mio punto di vista, quello che volete. Ma oggi fa un titolo fattuale. Vaccini si va troppo piano. Poi voglio dire, Libero ovviamente dice vaccini siamo gli ultimi, gli dà anche un giudizio di valore un po' più forte con un bellissimo pezzo di farina che fa vedere in tutto il mondo qual è il tasso di vaccinati e l'Italia è praticamente l'ultimo ai livelli della Bulgaria, non che abbia nulla contro la Bulgaria, ma non certo quelli della Francia o della Germania. Ma il punto fondamentale è che vai sui fatti, su quello che interessa. Il vero tema oggi mi sembra questa roba qua. Vaccini si va troppo piano. Dalle 470.000 dosi arrivate, usate solo 35.000 dosi, dice Repubblica. Però qui, toc toc, lo dovete leggere, lo dovete leggere, la prima pagina del Fatto Quotidiano. Ma neanche, voglio dire, i giornali di partito durante il fascismo. Veramente! Cioè, mentre Repubblica titola vaccini si va troppo piano, mentre Libero dice vaccini siamo gli ultimi, mentre tutti i giornali del mondo, chi a destra, chi a sinistra, fanno capire che il tema fondamentale è la scarsità dei vaccini, anche perché Biontech ha detto che non ce la fa l'amministratore delegato di Biontech e la società tedesca che insieme a Pfizer ha fatto il vaccino. Non riusciamo a stare dietro agli ordini, quindi facendo capire che i vaccini comunque ci sono più ordini di quanti siano i vaccini da produrre. Beh, insomma, la cosa straordinaria è che il Fatto Quotidiano, oggi il titolo del Fatto Quotidiano è vaccini, ora l'Italia raddoppia le dosi. Vi giuro, il Fatto Quotidiano titola ora l'Italia raddoppia le dosi. Voglio dire, io voglio sapere come faranno questi quattro che parcheggiano il SUV nel posto degli handicappati, questi quattro scialtroni del fatto, che fanno questi titoli, ma come faranno se dovesse cadere Conte? Quanto tempo ci metteranno a riciclarsi su qualche altro loro, diciamo, rivoluzionario che non sia Conte, Buonafede o Di Maio? È veramente incredibile, ma è incredibile, incredibile, il titolo di oggi, vaccini, ora l'Italia raddoppia le dosi. Fantastico. La scuola nel frattempo, dice il messaggero, l'assessore alla sanità laziale, che si parla di una regione piuttosto importante, dice che la scuola non può riaprire, e anche in Campania e in Veneto hanno dubbi sulla riapertura. Nel frattempo, ovviamente, io ho detto, i giornali sono a ricerca, con pagine e pagine, su questi cenoni, sembrano dei delinquenti. A me quando vedo invece uno che si prende una boccia di un hotel di lusso con altri quattro amici, mi viene proprio l'idea, non so, di Goodfellas, mi viene l'idea, non so, degli intoccabili, cioè di un mondo proibizionista in cui ci sono dei ricconi che se lo possono permettere, che se ne vanno a fare delle cose tremende. Qual è la cosa tremenda? È guardarsi e vedersi con dieci amici. Così come l'altro giorno era una cosa tremenda per una bambina uscire da scuola e abbracciare una sua amichetta. Ecco, se noi siamo ancora nel mondo che pensa che questa sia una cosa tremenda, veramente viviamo in un mondo di sconclusionati. Io spero che il 2021 ce lo dobbiamo. La miglior vendetta è vivere bene. Se lo dice il Talmud, lo dicono anche questi quattro ricconi, rich kids che si fanno i loro capodanni. La migliore vendetta è vivere bene. Io voglio vivere bene per vendicarmi di questo 2020 di merda. Il flop del cashback, perché l'altra grande sviolinata su questo cashback, eccetera, che è una roba che servita ai ricchi e servita assolutamente a null'altro se non a spendere un bucchio di soldi in piccoli sussidi, ne parla il messaggero perché soltanto un quarto delle persone, un quarto poche le lesioni e un quarto non riceverà il rimborso perché evidentemente non ha fatto le dieci operazioni finanziarie. Ma lo stesso Prodi oggi sul messaggero e sul mattino dove c'è la sua rubrica e essa dice ragazzi è un mondo fatto di sussidi, abbiamo fatto una finanziaria di sussidi. Adesso io capisco che ogni categoria sociale è infelice a modo suo, quindi devi fare i rubinetti che per c'è ne le visti, devi fare, che ti possono dire il pattino che piace agli ecologisti, devi fare, queste sono tutte cose che cita anche Prodi nel suo pezzo, devi fare gli occhiali perché Porro si vuole mettere gli occhiali nuovi, cioè devi fare tutti i sussidi che vuoi per tutte le categorie, ma questo è un mondo che riesce a vedere soltanto questo piccolo pezzetto per la loro piccola constituency pensando di essere eletta da questa piccola constituency. Nel frattempo segnalo che c'era una sola cosa da poter mettere nella finanziaria o nel credo mille proroghe come dice il giornale oggi, come ha detto a Quarta Repubblica mille volte, capezzone, e si chiama la rottamazione delle cartelle esattoriali, perché dal primo gennaio, siccome le abbiamo bloccate per tutto il 2020, cosa è buona e giusta, ma è come il tappo, se tu blocchi qualche cosa, è come la molla di cui parlo sul blocco dei licenziamenti, abbiamo compresso questa molla e oggi, dal primo gennaio del 2021, arriveranno 50 milioni di cartelle esattoriali, leggo sul giornale, ma anche sul Sole 24 Ore, gli avvisi di riscossione, gente che non lo sapeva e che dal primo gennaio si beccherà botte a casa, così come quella cosa incredibile decisa dall'EBA, cioè dall'autorità bancaria europea, per cui tu con due o tre volte che sei, con cento euro in rosso, verrai segnalato come un cattivo pagatore. Tutto questo, le cartelle esattoriali, il rosso come cattivo pagatore, avviene nel momento in cui c'è la maggiore crisi economica di questo paese dal 2007, anzi peggiore di quella del 2007. Io dico che la gente vive nella luna, nel frattempo blocchiamo gli licenziamenti, quindi pensiamo che così abbiamo risolto il problema dell'economia italiana. L'anno delle tasse, appunto, è il titolo della cosa, nel frattempo Ruffini si fa la sua solita intervista a Natalizia, perché ci mancava il direttore dell'Agenzia delle Entrate, che peraltro fa anche delle cose molto buone, però insomma, poi sui temi caldi, essendo lui un funzionario e non ancora un politico, non può intervenire. Aspettate un attimo, sulle tasse vi segnalo un'altra questione, che è l'apertura del sole 24 ore e l'aumento degli statali. I 3 milioni di statali e l'apertura del 24 ore avranno un incremento di stipendio del 26% in più rispetto all'ultimo aumento dello stipendio. Mentre voi siete a casa, non avete lavoro, voi dite, tu dividi l'Italia in due, no, non divido l'Italia in due, io vedo il sole 24 ore di oggi che mi dice che gli statali si prenderanno un aumento del loro stipendio 3 milioni di statali, pa, piatto uguale per tutti, del 4% e questo aumento dello stipendio è del 26% superiore a quello di tre anni fa e che questo aumento di stipendio del 4% è di 5 volte superiore, no, di quante volte superiore, 2,3 volte l'inflazione, cioè questi qui si aumentano il stipendio come se fossero diventati più produttivi. Molti di loro non hanno lavorato, molti di loro, come dice Cassese e Icchino, sono stati a casa a non fare nulla altro che smart working, molti di loro si sono fatti un mazzo così, tutti quanti aumenti allo stesso livello. Se con questa vostra idea di Todos Cavalleros è l'Italia del 2021, beh, permettetemi di dire che a me fa schifo, fa schifo. Ultime tre cose sono di godimento puro, pezzo di Gnocchi sul fatto che in Italia noi ieri alla Fenice abbiamo fatto il Nabucco con le mascherine e dice cazzo di Nabucco, dice Gnocchi, anche se non lo dice così chiaramente, ma io conosco Alessandro Gnocchi, dice il Nabucco, doveva essere la grande inno, metafora della liberazione dell'Italia, dall'arroganza delle potenze straniere, beh, insomma, in realtà siamo diventati schiari della mascherina e della nostra incapacità di liberarci dal Covid. Secondo pezzo delizioso che condivido solo parzialmente, ma vale la pena di leggerlo, Langone, che dice che sei uscita in Inghilterra dall'EU, finalmente, dall'UE, finalmente, riportiamo il francese, il linguaggio dell'élite come lingua europea, élite non a caso, dice Langone, è una parola francese, bella la provocazione, basta con questo orribile inglese, il francese ritorni la nostra lingua. Infine, vi segnalo un pezzo straordinario, come sempre, a firma Dario Entiseli sul giornale, quindi oggi il giornale c'ho mille cose da leggere, il mio giornale Dario Entiseli che parla di Kierkegaard, ma parla soprattutto della fede, della religione, della scienza, dei limiti della religione, dell'unica cosa di cui siamo certi, e cioè che non possiamo negare i dogmi religiosi perché sono semplicemente non scientifici. Di questo e di tanto altro parla Kierkegaard, ma parla anche Entiseli sul giornale, io ve lo consiglio caldamente insieme a Langone e Gnocchi, un po' per divertirsi, in una giornata in cui, come quella di oggi, dovete leggervi soltanto articolese totalmente inutili all'interpretazione della crisi, di cui parleremo anche, ovviamente, lunedì prossimo, io vi faccio i miei più cari auguri, vi dico che meglio di Mattarella c'è stato solo David Ghetta. Ciao.